Peli Pop C'eranavamo sempre sui critici L'operavamo così facili l'uno per l'altro Ci vedevamo in un negozio streetwear Che stava lontano da due abiti Avevamo gli orologi in sito Uno di noi tre era tanto di ritardo E l'intrino anticipo iniziava ridicando Io che arrivavo a puntuale facevo l'articolo C'eranavamo sulle tavolette E dotavamo come caccia contro art Qualc'è l'amore c'è la faccia da cadere alto Molto ingolo che spazio studiavamo Per il cuore c'è la luce suggerente Tutto da qui c'è troppo facile Una linea fisica dell'equilibrio Mi ricordo che spengo Ma adesso sembra un respetto Non c'è nessuno nello schetto Mi ricordo quando dicevo che in questi casi si schetta meglio E' diverso come mi sento Non c'è nessuno nello schetto Che a volte vengo che penso che sognava Ma adesso sembra un respetto Non c'è nessuno nello schetto Mi ricordo quando dicevo che in questi casi si schetta meglio Mi ricordo quando dicevo che in questi casi si schetta meglio E' diverso come mi sento Non c'è nessuno nello schetto Eravamo paraffina sopra un prendiero, una catena utilizzata solo per la fiera, una vita vera sulla strada, o vita di credibili cambiando scalinata, come arte parziale. Scarpetta, scarpetti, la potenza del C, sui piedi, scarpinata sulla vigna come tutti. Eppure adesso con niente è diverso, dietro in anticipo, di ritardo, vedi la strada, non c'è più pista, infatti si è avvolto tutto la scarpata, sono molto diverso tutti questi anche roba fioleste, non sono neanche purtroppo adatto a stare coltante, ma non ho più di differenza, ma ho più tanta pazienza, come quando provavamo in Italia, insultavamo i frunzi quando scivlevano, che eravamo in Italia. Ma cos'è successo nel mezzo? Quella piccina era buona, e mentre io scivo laggiù, mi raccomi vinto e non mi vuole. Ad esempio, io non ho perso, non c'è nessuno nello skate park, ricordo quando dicevo che in questi casi si scheda meglio, è diverso come mi sento. Non c'è nessuno nello skate park, non c'è nessuno nello skate park, non c'è nessuno nello skate park, ricordo quando dicevo che in questi casi si scheda meglio, è diverso come mi sento. Non c'è nessuno nello skate park, a volte vedo qui e penso che sono chiamato. No, 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 è diverso come mi sento, quindi non c'è nessuno che fosse